Ciao ragazzi, io sono Ivan e questo è il mio primo video, ma voglio giocare a Grove Stars con voi. Lo so che ho la voce un po' strana con... ho il mal di gola, ecco. Dopo scrivetemi nei commenti di quale di questi giochi volete vedere in un altro episodio. Mammaa! 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 Questo era il mio fratello, scusatemi, era il mio fratello. Non l'ho pensato, non l'ho pensato. Mammaa! Ho boh, sì. Ho appena sbloccato boh e ho terminato con un'altra cofetta. Noi, come ti amo? Una partita di... Cosmi? Non mi ricordo il nome. Perchè? Sono due epici. Non è male. Ma la squadra di Leonardo hanno due mitici. Ma che squadra è? Io... Parliamo di qualcosa? Ehm, cosa parliamo? Questo mi uccide. Questo vuoi mi uccide. Uccidono. Questo lo voglio sapere. Questo. Questo. Un momento più importante. Mi fanno la bomba. No! È un genio! Perchè? Questa, mamma mia, è un genio! Buono, 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 buono! Grande Frank! Mi sono preoccupato. Non so perché mi sono preoccupato, ma... No! Valtissi! Ruba il fiore! Ruba! Ruba tutto! Ruba! Ruba tutto! Ruba tutto! Voglio rubare tutto! No! Più! Dai, bombe, bombe! No! È un genio! Se mi uccidono, no! No! È un genio! Perché questo è un genio? Perché? Ehm... Cosa di un altro vogliamo bo? Se volete, un'altra volta facciamo prova a non ridere o prova a non spaventarti, a non piangere. Non so, queste cose. Ehm... Qualche prova o qualche challenge. Mortisco! Mortisco! Mortisco, vieni qui! Scusatemi ragazzi, ho tantissimo mal di gola! Tanta mal di gola! Ehm... No, no, no! Madonna mia! La bomba, la bomba, la bomba! La bomba! Bomba! Da... Dovete sapere che... Ehm... Sbaglio! C'è qualche parola... ...questo è perché... Io sono bulgarese, non sono italiano. E ancora non vi dico il mio nome vero. Se lo volete sapere, ditemelo. Fra due settimane se lo volete sapere. Fra due settimane ve lo dico. E abbiamo perso. In questa squadra di merda. Scusatemi che dico le parolacce, ma lui viene così, non so perché. Meno due, meno due, più venti, più venti. Giochiamo una partita in singolo. Joomii! Joomii, la mia Joomii, la mia ragazza. Cosa posso fare? Aspettatemi. Ecco, giù mi ha rifiuto, non so perché. Cominciamo, sono le 5.34. Non so perché lo dico, sono stupido, lo so. No, ma, vatten. Vatten. Vatten è buo. Lo so che c'è stata. Ma, tre buo. Corabuyan. No. 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 Oggi l'ho vinto delle casse gratite, una casa del negozio, da questa classe. Se mi volete, seguitemi sul TikTok perché io faccio anche TikTok. Guardate che non posso soppare tanto perché... La mia mammina non mi dà soppare perché lei è scema. È il mio fratello strontzo, ecco. Devo due anni. È rientrata la mia mamma. Dai, facciamo una partita, dai. Petticella. No, bo, 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 bo. No, 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 no. No, non mi uccido, perché io sono per lontano e tu sei per... non so. Mi sono ascoltato la parola, lo sapevo, sono borghese, ve l'ho detto fra circa tre minuti. No, ho detto non riesco. No, 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 il Wi-Fi, perché? Perché questo è da me, ciao. Bene, per me non sei qui, perché... Per me non sei qui, perché... Sì, perché... Ah sì, è il mio primo video, è circa nove minuti, otto minuti, eh. Neh. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like e scrivete un commento. quale gioco volete provare? Volete che io gioco? Un'altra volta, come da questo, guarda, robot, 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 no non posso giocare, perché... Mi è bugato, bugato. O GTA. Eh, GTA è buono. Oh, qui, qui. Ciao ragazzi